Lo ha fatto il governo Conte, lo ha fatto senza mandato parlamentare e lo ha fatto, udite udite, un giorno dopo essersi dimesso. Bugie su bugie, ha detto che non siamo passati davanti al Parlamento, abbiamo discusso col Parlamento, abbiamo fatto, avremmo apposto delle firme, io il ministro Agliesti ha sventurato un fax dell'epoca e per dire che cosa abbiamo fatto in tutto col favore delle tenebre. Giorgia Meloni, non ti permettere. Spazzatura.